Ciao ragazzi, ben trovati finalmente, mi verrebbe da dire finalmente, perché due settimane di niente Serie A, io poi dopo insomma questa Nation League, io non so neanche una sega delle nazionali, cioè a un certo punto vi giuro, vi giuro, stavo spippolando sul televisore e vedo la nazionale contro la Francia e faccio, ma fanno vedere in differita un'Italia-Francia, ma che è, un amichevole, io non sapevo niente, io la nazionale ragazzi faccio cagare, non so niente, ma non perché voglio fare, sapete, il classico coattello fiorentino che non segue la nazionale, ma proprio perché non me ne frega niente, cioè proprio non ci sto dietro, è più forte di me. E quindi ecco, questo è quanto, quando gioco alla nazionale io soffro, perché non posso vedere la fiorentina e sarò un bigotto, un tifoso bigotto, però purtroppo è così, e soffro anche perché in questo periodo, i più attenti nel canale, chi mi segue ormai da anni lo saprà, questo è il periodo un po' più convulso, confusionario a livello mio lavorativo, perché sono in mezzo a tante fiere, sono stato a Düsseldorf, tra l'altro il culo di Düsseldorf è clamoroso, perché non dovevo vedere la partita, l'aereo, perché dovevo essere sull'aereo, l'aereo del ritorno ha fatto tipo tre ore di ritardo, mi sono visto tutta la partita, mi sono fatto il post partita e poi mi sono imbarcato, c'è un culo clamoroso. Chiaramente me lo sono visto grazie a NordVPN, che trovate tutti i link in descrizione, che non è solo, ragazzi, a parte gli scherzi, non è solo lo sponsor del canale, ma è uno strumento che ti tiene protetto a livello informatico, le tue password, comunque la navigazione è sempre sicura, insomma ci sono tanti tanti vantaggi, e poi un altro dei vantaggi a livello di piacere è che, così come è successo anche in Colombia, mi permette di collegarmi al mio account di Dazon e guardare comodamente la mia partita da un altro paese, perché non so se tutti lo sapete, ma se vi collegate dall'estero a Dazon, non vedete la programmazione italiana, quindi probabilmente un Fiorentina-Atalanta non sarebbe possibile vederlo, anzi un'Atalanta-Fiorentina. Comunque, allora, due settimane quindi un po' convulse, si porteranno un po' avanti perché, appunto, come sapete, fino a metà ottobre sono dietro anche alle fiere del wedding, quindi quella di Firenze, quella di Pisa, se c'è qualche novello sposino 2025 che mi passi pure a trovare, tutti gli anni si fanno ampie chiacchierate sul calcio, anzi parlo più di calcio che di abiti da sposo in questi frangenti, però mi fa piacere, mi gasa. E al di là di tutto, ragazzi, comunque domani riusciremo finalmente a rivedere la nostra Fiorentina. Allora, in queste due settimane, anche se c'è stato questo grande stop, sono successe diverse cose. Al di là delle ottime prestazioni di Ken in nazionale, e al di là, insomma, del fatto che si è avuto un 15 giorni di respiro per questa squadra, per farla integrare sempre più nei suoi reparti, nei suoi componenti, diciamo quasi una manna dal cielo per questa Fiorentina avere questi 15 giorni di riposo, dove si sono fermate un po' le acque, hanno cominciato, diciamo, a lavorare nello specifico anche con i nuovi arrivati, anche se poi molti dei nuovi magari non erano a disposizione, viene in mente per esempio Bove, che era nazionale, Ken, lo stesso Ken appunto era in nazionale, però gran parte del gruppo lo era, e quindi hanno potuto comunque lavorare in sinergia con quelle che sono le idee dell'allenatore. Ragazzi, la grande verità di questa Fiorentina, adesso parliamo per esempio anche della conferenza stampa di ieri, di Daniele Paradè, la grande verità di questa Fiorentina è che a questa Fiorentina serve tempo. E il tempo, purtroppo, mi viene da dire, è nemico di Firenze, perché a Firenze non si concede mai tempo. E questo è una grande verità di noi tifosi, dove una squadra, secondo me, allora, a parte deficitaria in alcuni reparti, secondo me anche ammessi dagli stessi addetti a lavori, come appunto la conferenza stampa ieri di Daniele Pradè, dove si evince che manca un vice Ken, si evince che manca qualcosa in difesa, e che forse verrà fatto a gennaio, o che sono stati sorpresi anche da alcune scensioni dove il giocatore si è impuntato e voleva andare via, come lo stesso Ambra Bat, che all'inizio aveva detto, sì, posso rimanere, e poi, insomma, se n'è andato. Così come Nico Gonzalez, anche se mi venirebbe da dire che era già da molto tempo nell'aria, l'hanno un po' edulcorata la pillola, un po' a favore loro da quel punto di vista, perché non credo che Nico Gonzalez si avesse dato da subito disponibilità, poi dice che è stato cambiato dalla Coppa America, dalla finale di Atene, può essere vero e non vero, io non credo che siano andate letteralmente così, per me ormai era già nell'aria, dalla finale, insomma, che lui sarebbe andato via. Però, al di là di questo, dicevo, insomma, ci sono frangenti di squadra che sicuramente non sono completi, come dicevamo appunto, la difesa su tutti, ma che per me, ragazzi, potrebbe venire fuori comunque una squadra molto competitiva. Poi, di qui a dire, si vincerà alla Conference, si andrà in Champions, si andrà in Europa League, ce ne passa veramente di acqua sotto ponti, potrebbe non succedere. C'è anche da dire che è una squadra completamente, radicalmente nuova, quindi avrebbe bisogno di molto tempo a disposizione. E come dicevo, lo voglio ribadire, il tempo è nemico di Firenze, perché a Firenze non si aspetta. Il vantaggio, secondo me, c'è anche da sottolineare che questa, come rivoluzione, a livello così massiccio, è la prima volta negli anni che assistiamo a una rivoluzione così forte in una squadra che comunque rimane in, diciamo, competitiva su vari fronti. Perché? La rivoluzione massiccia si è vista, per esempio, nel post-Brandelli, quando ormai le cose erano finite, si ripartiva da nessun tipo di competizione europea, è ok, allora si rifece proprio un rimiscolamento dei reparti. La rivoluzione massiccia si vide con il primo Montella, la rivoluzione massiccia si vide con il primo Brandelli, quando venne Tony, Jorgensen, anzi, Jorgensen già c'era, Montolivo, Pazzini, vennero tutti, però ecco, era un costruire. Stavolta si assiste, diciamo, a un ti ho lasciato lì, devi continuare questa traiettoria, se non migliorarla, con una squadra completamente nuova. Io, ragazzi, rimango fiducioso, perché non mi sembra, Palladino, un perfetto sprovveduto, non mi sembra una persona, ecco, a cui dai in mano una squadra e lui ti fa un disastro. Poi, se non sarà all'altezza, vedremo, probabilmente, insomma, se ci sarà da cambiare, sarà difficile cambiare in corsa, però lo cambieremo, ma non mi sembra, ecco, un allenatore da sfiducia, da comunque dargli tutta la nostra sfiducia fin da subito. Secondo me, anche con le pedine che ha a disposizione, può tirar fuori delle belle situazioni. Poi, ovviamente, come dice anche Pradè, sarà il campo a giudicare, è difficile dare un voto, come dicevo, a un calciomercato del genere così radicalmente cambiato. Poi, ci sono stati alcuni retroscena, tipo la retroscena Ranieri, che lo voleva al Napoli, di Conte, quindi, al di là del fatto che sta affaticando un po', io credo, il problema principale della difesa quest'anno, è che, manchi un vero marcatore, perché, un quarta, un Ranieri, accanto a, un ultimo uomo, come poteva essere, Milenkovic, con tutti i suoi difetti del caso, diciamo, potevano rendere di più, perché avevano più libertà di azione, cioè, la libertà di dire, io adesso prendo, avanzo un attimo. Comuzzo è un ultimo uomo, però, è talmente giovane, che, difficilmente, adesso, gli puoi dare una responsabilità del genere. Quarta, è un giocatore che, si sa, ragazzi, quarta, ti può fare il bello e il cattivo tempo, ti può salire, trovarti l'incornata vincente, ma ti può fare anche la cappellata dove ti trovi l'attaccante davanti al portiere, così come è successo diverse volte. Pongracic, come dicevano, anche lui dovrebbe essere un marcatore, ma sta avendo delle difficoltà, e poi, appunto, la parte, diciamo, più importante è, Nico è voluto andare via, Ambra Vatt ha cambiato idea all'ultimo secondo, Hummels, per chi ci sperava, ci ha chiesto tempo, poi, insomma, è andato, se non sbaglio, alla Roma. Va bene, ragazzi, allora, domani c'è da dire una premessa, adesso entriamo in un ciclo molto complicato, e proprio ci si riaggancia al discorso del tempo a Firenze, cioè la partita di domani la potresti perdere comunque, cioè io domani non voglio, non voglio psicodrammi se la Fiorentina dovesse perdere, perché la partita di domani a Bergamo con l'Atalanta, con una macchina con l'Atalanta che ha vinto anche l'Europa League, per dirti, cioè potresti perderla anche con la miglior Fiorentina che gioca insieme da cinque anni, quindi niente psicodrammi, poi ci sarà la Lazio, poi quali saranno le altre partite, poi ci sarà l'Empoli, ecco, quello magari dovremmo assolutamente vincerla, anche se l'Empoli è molto in forma, insomma, ci sarà un filotto di partite molto interessanti, un filotto di partite molto importanti, che però, ragazzi, daranno anche una piccola prima linea a questa Fiorentina, poi io vorrei riaggiornarmi su questo punto verso fine ottobre, cioè a fine ottobre dopo due mesi di Fiorentina, due mesi abbondanti, cominciare a tirare una piccola linea e dire dove siamo arrivati, cosa abbiamo fatto, cosa c'è da migliorare, perché non sono andate queste cose, speriamo siano poche, e a quel punto tirare una piccola somma, ma fino ad allora, ragazzi, io non è che voglio professare calma, però vedo totalmente inutili psicodrammi, eccessi di euforia, dall'altro senso, e così come tante altre piccole esternazioni da tifoso che non ha forse ben chiaro il fatto che questa squadra è radicalmente rinnovata, non solo dall'allenatore, ma a partire dall'allenatore fino ai componenti del gruppo. Per quanto riguarda la sentenza, Gudmundson dice che non dovrebbe essere nulla di grave, io non entro nel merito politico, morale della situazione perché non mi compete, sicuramente da tifoso, se un giocatore del genere sarà a disposizione della Fiorentina, mi farà piacere, poi il resto lo lascio ai giudici, ai magistrati, poi se veramente fosse colpevole è giusto che va in carcere, cioè ragazzi mi sembra il minimo dirlo, chiaramente saprebbe l'ennesima incurata perché già Mutu per esempio dei fatti risalenti al Chelsea, Chelsea e Juve non successe nulla, venne a Firenze dopo due anni, lo squalificarono, questo sarebbe l'ennesimo numero dieci che se ne va, vabbè, per altri motivi extracalcistici. Va bene ragazzi, allora Forza Viola, ci aggiorniamo domani dopo la partita, ciao ciao, Gm